...e il gruppo lo vedo in serie aperta e in difficoltà Diciamo che sono le prime fasi di attrezzaggio Seguiamo le operazioni Con che premesse si assinge a questa salita? Allora la premessa è sempre l'arrivo Dove ci attende una borraccia di grappa e una di boccia Molto bene Con questo stimolo noi affronteremo il freddo oggi Questa è tisana calda con erbe eucalipto tipiche di Ortisei Piede e manoposti, bravi E' perché dipende molto da come vieni da casa Se è quanto colaro alzi bene il tallone e quindi la ciaspora e la cuore Ok, è fatto colare Noi siamo la banda Borghetti Che è il sottogruppo più alcoolizzato del Branca Venta Trekking Group Sono meno 10 gradi Daniele, tu cosa ne pensi? Io sto immortalando Uno stambecco? Delle specie faunistiche della zona Qual è l'animale che a te piace di più? La passera dei mari Un po' distante Eh però è tanto E serve uno zoom Qual è l'animale che a te piace di più? Qual è l'animale che a te piace di più?